L'apocalisse arriverà tra meno di sei anni, con lo scoppio della Terza Guerra Mondiale, sette miliardi di morti e disastri climatici in tutto il pianeta. Ma dalle macerie nascerà una nuova era e nel 2054 il mondo sarà governato dai cittadini grazie a Internet. Parola di Gianroberto Casaleggio, ideologo e comproprietario con grillo del marchio del Movimento 5 Stelle, che nel 2008 aveva diffuso su YouTube Gaia, il futuro della politica, un video di sette minuti dove, senza paura del ridicolo, il profeta 5 stelle anticipa le prossime tappe nella storia dell'umanità. Intorno al 2018 il mondo sarà diviso in due blocchi, a ovest la democrazia diretta via Internet, a est un sistema totalitario con accesso alla rete limitato. Nel 2020 scoppierà la Terza Guerra Mondiale e alla fine del conflitto, nel 2043, la popolazione sarà ridotta a un miliardo di abitanti. Ma nel 2054 ci sarà la rinascita, con la prima elezione via web per il governo di una comunità mondiale, dove non ci saranno più partiti politici, ideologie e religioni, e i cittadini avranno un'identità certificata soltanto dalla rete. Un delirio futuribile con radici nell'esoterismo, nell'occultismo, nelle filosofie New Age e nel complottismo, tutto in salsa grillina. Ma una buona notizia c'è, nel 2054, anche in Italia, non sarà più un problema formare un governo.